ci pensa lui il resto ciao sono mimmo il tuo videoman quello che vedrai sempre davanti lui dietro ma io davanti ehi come ti chiami? mohmo come? mohmo? ah vabbè come vuoi te da dove vieni? dall'egitto dall'egitto fantastico e vabbè mohmo ma lì c'è scritto mohamed che ne so io se questo cambia nomi perché è più facile più facile mohmo che mohamed è abbastanza comune quindi non si sbaglia molto neanche vabbè come vuoi te ti puoi chiamare anche geltrude io tu lo fai al tuo amico io no a te sei venuto così o te l'hanno pagato? no non sono venuto io ho pagato tutto io non è un regalo non è un regalo? no ho deciso io per lo meno è un regalo che ti sei fatto in mezzo azzine vai per ultima luce che sento pietà e sei senza migliori andata andata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sollevati che ti bagno il culo Dammi la mano Salutalo velocemente Salutalo velocemente e ciao Ehi lasciali Ehi fremoli Fermo Salute a tutti Grazie per la visione!